siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne mezzi e tecnologie abbiamo un unico grande obiettivo proteggere il mare e chi lo vive guardia costiera la tua sicurezza in mare per le emergenze in mare chiama la guardia costiera